Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a reagire ai futuri andalusi che usciranno su Star Stable. Bene, iniziamo subito. Partendo da sinistra abbiamo un esemplare morello, di cui non ne vado molto pazza perché assomiglia al Trakener, ma più schiarito. Il secondo è un manto tipico dell'andaluso, e questo è sicuramente meraviglioso. Adoro il suo muso... puccioso. Il Sauro mi piace tantissimo, anche con la piccola stellina in fronte, per non parlare della criniera. La adoro. Il morello più scuro direi la stessa cosa del primo. Adesso c'è il Perlino, o Albino. Questo assomiglia molto all'Acal, quindi secondo me non ne vale la pena. acquistarlo. Cioè, è come avere un... due Acal con forma diversa. Secondo me non ne vale la pena, ovviamente. Poi abbiamo questo meraviglioso baio con la lista in faccia, che è stupenda, poi con... ha un bel muso. Infine l'andaluso più bello, secondo il mio parere. Ha un manto particolare, almeno dal collo così si vede. E penso per il resto del corpo sia così. Poi mi piace molto la criniera. Penso proprio che la maggior parte prenderà questo esemplare magnifico. Gli andalusi usciranno ad agosto, ma non si sa precisamente la data, per cui dobbiamo attendere finché non escono ste meraviglie. Se notate dalla testa, assomigliano molto ai lusitani. Però spero che le mosse siano differenti, oppure facciano qualche mossa particolare dell'andaluso. Bene ragazzi, il video finisce qui. Dimmi quale vi piace maggiormente e quale di questi acquisterete. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!